Siamo alla diga di Valli, guardate, è bello e spettacolare, dopo si ha il ponzo sospeso, sempre di Valli e la cittadella che hanno fatto sulla fossa. Mamma mia, oh, sembra nei film, come nei film quando c'è Superman. Ah, sì, Smallville. Sì, Smallville, sì. Sti cazzi. Sti cazzi. M 말씀드�iero, iscriviti al Coritz Global, ecco c'è una casina lì guarda andate fino lì l'acqua quando l'acqua dica immagina che sulla pallone è una legata eh vabbè lì è cascato il ponte era collegato mi sa quello con quello eh ci sta Grazie a tutti. Grazie. 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 Siamo pronti. Nicola. Sono molto pronti. Andi. L'ingresso può donar. Queste scimmie, la scogliata e l'aquila. Che ne vai c'è qui qui? C'erano. Non c'è più. No, vado a vedere le sculture in legno. Scogliattolino e l'avellino. Siamo a Valli di sotto, paesina dove ogni tanto, ogni anno, non so, non c'è più. L'abbiamo anticipato. Levano il fiume perché c'è una città sotterranea. Ora è un po' secco. C'è una città sotterranea. C'è una città sotterranea. Ma c'è un pozzolino? C'è un pozzolino. Ciao. Ciao. e ci ha messo il mio palcio oh no, non è un cazzo si 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 due tre entri però c'è la delegata la depanno 160 un ops è entrato andiamo a questo punto sospeso a vedere com'è ho anche l'asino cinghialini a giro liberi e me lo aspettavo ciao 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 un po' è il coccolo ciao 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 c'è quello lì quando levano il quando fanno anche i bagni lì si ci ci sto quanto ci fa due ore e mezzo tre ore per arrivare qua si non ci viene neanche ci siamo che ci non qui non non io non e ancora c'è da fare allora ma mi sa che si può entrare anche di là e forse allora e guarda ormai quello non è quello, manca ancora o no? a questo punto non è il suo speso, a questo punto è di legno non trovo strada è molto lunga forse è quello? non è quello non vedo nulla cosa fa il traslizio? grazie ancora manca è quello? quello? francesco mi sa non è quello? no non è quello quello è quello ah allora no, abbiamo sbagliato la strada non è la mattina non è lui mi sa le strade di... non è quello ma quanto mi sembrava strana a me siamo arrivati finalmente punto suspris grazie si aspetta si aspetta siamo arrivati dopo tanto punto sospeso valli di sotto questi cazzi come un'ondola mi sede tanto ma era meglio eh Nicola eh si ma la in chi c'è la? fino a là sono arrivati ragazzi eh te lo devi far dire che cazzo è sede potete aver parlato con loro mica io mi caschi qui? sono due ragazzi buon'ondola 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 mi caschi qui è la buon'ondola non lo devi farla o puoi andare con l'ondola buon'ondola non lo andiamo Grazie a tutti